Salve a tutti, vediamo come completare la missione Il Mercante di Schiavi su Assassin's Creed Mirage. Chiamiamo l'Aquila e andiamo a identificare il nostro bersaglio. Ora, la mia risoluzione è un po' particolare, bizzarra. Allora, innanzitutto andiamoci a liberare di qualche guardia intorno all'obiettivo, soprattutto questa qui pesante, quindi le guardie peggiori, di nascosto. Ma a un certo punto vi consiglio direttamente di uscire allo scoperto e di affrontarlo a viso aperto. Quindi sfoltiamo un po' di guardie e riduciamo l'energia del nostro obiettivo, senza ucciderlo. Ecco fatto, vedete? Io l'ho ridotta parecchio, ecco un altro colpo, perfetto, basta. E adesso miriamo una giara quando lui è vicino, per farla esplodere e ucciderlo così con il fuoco, come richiesto dal cliente. Fatto questo, scappiamo a gambe levate. Qua ci sono due giare, quindi se fallite a una potete attirarla alla seconda. State solo attenti. Un saluto.